Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Andrea Papi è stato ritrovato senza vita nei boschi di Caldes, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile. La procura di Trento, come si legge su today.it, ha aperto un fascicolo in modo da poter portare avanti le indagini, disponendo l'autopsia sul corpo del 26enne che dovrebbe svolgersi quest'oggi. La domanda alla quale il medico legale dovrà rispondere è molto semplice. A togliere la vita ad Andrea Papi è stato effettivamente un orso oppure la causa della morte va ricercata altrove? Ad essere coinvolti nell'autopsia vi saranno diversi professionisti tra i quali un medico legale, un esperto di carnivori e un veterinario. Inoltre, vi sarà anche l'analisi del DNA dell'animale allo scopo di chiarire se sia lo stesso coinvolto in precedenza tra quelli che sono stati giucensiti in Trentino. Si starebbe facendo largo il tragico sospetto che il giovane possa essere stato trascinato per un centinaio di metri nel bosco dall'orso, per poi essere lasciato lì. Sul corpo di Andrea Papi ci sarebbero segni lasciati dall'orso sul corpo di Andrea Papi. Inoltre, come riportato da today.it, vi sarebbe la presenza di segni dell'orso, conferite provocate dai denti e dalle unghie. Tra le ipotesi che sono state avanzate in queste ore vi sarebbe anche quella che il 26enne possa essere stato colto da un malore prima di essere aggradito dall'animale.